Amiche di Screen Week, amici di Screen Week, buon venerdì, che bello che adesso compariamo direttamente tutti e due, che bella cosa. Sì, sì, senza più imbarazzi, ciao, ciao Filippo, ciao amici e amiche a casa, senza quella cosa, dai ma ci siamo, devo perdere un po' di tempo che quei due debosciati o quel debosciato non si presenta, anche la paura che non ci presentassimo, diciamo la verità, il timore che potessimo non presentarci affatto, perché l'avventualità esiste. Terrore, questo terrore che mi prendeva ogni volta, verranno o non verranno, ci saranno problemi tecnici o quant'altro, invece no, adesso partiamo direttamente insieme, so che ci siete e non ve ne andate, finché non lo dico io, in questo caso non te ne vai, finché non lo dico io, perché Andrea oggi non ce l'ha fatta, Andrea, no in realtà non ce l'ha fatta per motivi cinematografici, visto che in teoria tra, se tutto va bene dovrebbe vedere Goods. Sta girando un film, lo possiamo dire Andrea, sta girando un grande film, è un film di genere, non possiamo dire quale genere, ma sta girando un film, quindi non è potuto essere con noi. Si è arrivato un commento che dice belli nel video e fotogenici, sexy love, vabbè. Grazie, ci sono dei problemi. Sì, ci sono dei problemi di trasmissione, molto probabilmente non stiamo comparendo noi, va bene. Allora, niente, di che parte? Anzitutto no, come va? Ah, piuttosto bene, piuttosto bene, tutto a posto, sarei voluto andare anch'io a vedere Godzilla Kong, nuovo impero. Ci sono io che rompo. Poi qualcuno doveva pur rimanere per far compagnia a Filippo, non è che può fare dirette da sola, non è solo questo pover uomo. E allora, siccome qui lo davano soltanto oggi pomeriggio, avevo fatto la mezza pensata di portarci la bambina perché mi sembra che sia proprio il film adatto da guardare con dei bambini, come da recensione sul nostro sito. Esatto. Siccome è un film divertente, è un film fracassone, pensavo di è, però non si è potuto per via del fatto che dovevamo essere qui sostanzialmente. Dovevamo essere qui. Roberto Recchioni, sì, ne ha parlato sulle nostre pagine virtuali, potete trovare la recensione sul nostro blog, la trovate proprio in home, in cover, spazio principale, quindi se volete leggere, leggetela, e poi andate a vedere il film. Fateci sapere cosa ne pensate. Comunque, va bene, va bene, commentiamo un po' di news questa settimana, non c'è niente di eclatante, però sono successi a un po' di cose, un po' di cose per quanto riguarda anche il Marvel Cinematic Universe. Così, dal giorno alla notte, era notte in Italia, in realtà, Florence Pugh ha pubblicato il primo video dal set di Thunderbolts Asterisco. Thunderbolts, esatto. Diciamo prima questa cosa, Filippo, perché magari la gente a casa non lo sa, eh. Il film Thunderbolts non si chiama più Thunderbolts, ma si chiama... Thunderbolts? Come si pronuncia? Thunderbolts Asterisco. Non sappiamo cosa vuol dire Thunderbolts Asterisco. Non sapevo se si pronuncia in qualche modo particolare, però in ogni caso, sì. Ci sono teorie. Perché lei ha postato questo video in cui mostra niente, cioè un set, il grande lavoro dei falegnami, abbiamo sempre detto che nei film quando ci sono scrittori di cosa c'è il lavoro dei falegnami, ecco, fa vedere il lavoro dei falegnami perché c'è questa impalcatura che si vede, e poi si vede il regista e si vede la sedia con scritto Thunderbolts Asterisco. Cosa significhi questo Asterisco? Noi non lo sappiamo. Non lo sappiamo, potrebbe essere, buh. Qualche cosa contrattuale, tipo se il film non vi piace non è corpa nostra, non lo so. Sì, sì, Thunderbolts, ma forse poi cambiamo anche il titolo, ma secondo me potrebbe essere il nuovo trend, il ripo dei film di supereroi, perché abbiamo avuto la fase D, no? The Batman, The Suicide Squad, i film con The Flash, no? E ora c'è invece la fase Asterisco, e quindi facciamo un film Avengers Asterisco, facciamo, beh, nel mondo del fumetto si porta, no? Tipo il numero virgola cinque, queste robe qui, no? Esatto, esatto. Dopo il numero cinquanta è il numero cinquanta virgola cinque anziché il numero cinquantuno. E ci sta, potrebbe essere una nuova moda. È molto interessante, in realtà come hai detto tu, il video non mostra molto, ovviamente perché non possono mostrare, non possono mostrare niente. Ci hanno fatto credere che è un video che Florence Pugh ha realizzato a sgamo, senza autorizzazione di nessuno. Cioè, credici, ovviamente. Non è così, l'avrà fatto vedere a tremila persone prima di pubblicarlo. Però è molto interessante magari riflettere su come stia cambiando, forse, il modo di comunicare della Marvel. Forse anche perché si è notata una carenza di interesse, una carenza di affilbe, di anche gli incassi, però ci rilasciamo anche a Fantastic Four, come hanno fatto l'annuncio così a San Valentino, di punto in bianco, pubblicando una grafica, confermando poi rumor che già sappiamo. Però sta un po' cambiando la comunicazione proprio della Marvel, non trovi? Sembra tanto un'operazione simpatia, un'intelligente operazione simpatia, perché come dicevi tu, l'MCU ne ha bisogno. E questa roba del vi porto con me, vi faccio vedere dietro le quinte, anche se poi alla fine non mostra niente. Si vede lei con il costume di scena una foto, c'è uno schermo su cui l'immagine è ferma, e c'è lei... cioè, si vede una delle riprese, ma non si vede il video, si vede soltanto un'immagine statica. Ci sta e crea interesse sicuramente più questo che far uscire, far scivolare giù dal camion le foto scattate sul set, anche perché quando rigiri in un set chiuso, in studio come questo, come questo film, è proprio difficile che ci siano le foto scattate da qualcuno per caso, no? E che quindi finiscano sui social, come avviene quando girano qualche scena in città, nelle città, in Canada o a Praga. Sai, in un periodo in cui pensavo che del film non mi interessasse niente, però vedere questa cosa mi ha interessato, mi è venuta voglia di saperne di più, soprattutto per l'asterisco, quindi il grande colpo di marketing potrebbe essere proprio l'asterisco, al di là di tutta la cosa recitata da Florence Pugh, adesso andiamo, non vi dico dove sono, ops, sono sul circuito di Thunderbolt, la cosa più interessante potrebbe essere proprio l'asterisco. Esatto, esatto, se avete anche idee voi su cosa possa significare questo asterisco, scrivetecelo nei commenti, perché noi stiamo navigando in altro mare. Per quanto riguarda il film, ricordiamo che nel cast troviamo Giulia Luiz Dreyfus nel ruolo della contessa Valentina Allegra delle Fontaine, Cerbelloni Mazzanti, Vien dal mare, esatto, David Harbour di nuovo nel ruolo di Guardiano Rosso, White Russell, US Agent, che altro c'è? Florence Pugh, che l'abbiamo vista, Elena Belova, Sebastian Stan nel ruolo del Soldato d'Inverno, Olga Kurlirenko, Taskmaster, mi sono dimenticato qualcuno. C'è Ghost, no, anche? Ghost dei film di Anderba. Giusto, giusto, esatto, esatto, anche lei. E poi Harrison Ford, ci sarà anche Harrison Ford, che debutta nell'universo cinematografico Marvel, nel ruolo, oddio, in che ruolo? Beh, nel ruolo del generale che fu di per il casting. Tadeus Ross. Sì, del Thunderbolt Ross, Tadeus, detto Thunderbolt Ross, perché l'attore non c'è più, e qui hanno sostituito. Esatto, esatto. Vabbè, poco altro da dire, però c'è una notizia che, ripeto, questo è un rumor proprio che si è sparso nelle ultime ore, rimaniamo sempre in ambito Marvel, cambio quindi questo, e già potete capire di cosa stiamo parlando, metto anche, già capite che io non ci credo, cioè, che inizieranno le riprese di Blade, però al momento i rumor sono questi. Condivido anche l'articolo che abbiamo pubblicato su Screen Week autunno 2024, si parla, Ale, ci dobbiamo credere a questa voce. Ma quando vai? Anche quando vedrò la locandina che è uscita al cinema, e dice, c'è il film di Blade, io non ci credo, secondo me è una locandina fake, dentro ti fanno vedere un'altra roba, tu vai a vedere quello e ti fanno vedere un'altra roba a Disney, non ci credo. È talmente campato in aria da così tanto tempo questo film, che sembra, nel mondo informatico c'è il termine Vaporware, per indicare quei programmi o quei giochi di cui si parla tanto, ma che poi alla fine non escono davvero, no? E perché non vengono mai commercializzati. Mi sembra una di quelle robe, cioè, è incredibile. È vero che anche il Fantastic Four è stata la stessa cosa per tanto tempo, no? L'annuncio di un regista, poi non c'è più lui, eccetera. Però qui è proprio strano, perché è un film che è apparso ed è scomparso, dai, dalle presentazioni Disney sul futuro Marvel dell'MCU, più e più volte. Quando ci aspettavamo, ma beh, dai, adesso diranno qualcosa. Quando ancora ci si portava il sandievo comico, no? Adesso diranno qualcosa su Blade, non manco il cartello, che di solito non... cioè, avevamo dei loghi, a volte anche, ricordiamo, Quantumania, manco esaltare. Infatti da un povero Cristo all'ultimo minuto, però... o almeno quello sembrava come effetto, almeno quello era l'effetto. E di Blade c'era solo il cartello, quando spariva pure quello uno diceva... Sono riuscito a recuperarlo, perché è sempre stato molto affascinante il primo logo con il... con cui hanno presentato Quantumania, che non si capiva niente. Era... Ti hanno dato una botta di cancellino, quello è il cancellino di Photoshop, no? Hanno scritto proprio Blade intero, poi hanno tagliato metà delle lettere in verticale e l'hanno cancellato. Ma Ant-Man and the Wasp, Quo-Quo-Oc, io l'ho sempre letto così, Quo-Quo-Quo-Oc. Poi hanno detto, ma secondo me si legge Quantumania? Che? Che cosa doveva essere quella scritta? No, era un simbolo così, erano dei simboli allieri, non era una roba che davvero doveva avere un significato. Beh, Quantumania, chiaro, no? Si legge, è chiarissimo. Quo-Quo-Quo-Quo-Quo. Comunque, perché si dice che le riprese dovrebbero iniziare appunto nell'autunno 2024, perché è comparso praticamente su Production Weekly, che raggruppa un po' tutti i set di prossima lavorazione, solitamente affidabile come fonte, quindi in teoria è così, però sto film, come hai detto tu, ce lo tiriamo dietro da tantissimo tempo, non sappiamo niente, girano voci anche non troppo promettenti e ci crediamo anche, a cui ci si crede facilmente visto un po' il corso dell'MCU degli ultimi tempi, quindi Marshall Halli che sarà il protagonista, non contento di quello che stava succedendo, sceneggiatura che lo relegava ad un ruolo da comprimario inizialmente, senza escludere poi tutti i problemi che abbiamo ripetuto più o più volte nel corso di queste chiacchierate, tra cui uno principale, come fai a fare un film di vampiri senza il sangue? Senza il sangue, perché dico senza il sangue? Perché essendo un film Marvel puntano al PG-13, esatto. Come fai a fare un film di vampiri senza il rating Gar, forse anche questa cosa. Fai delle vittime molto anemiche, fai delle vittime molto anemiche, quindi anche quando la zanna non esce una goccia. Marshall Halli che è stato l'unico che ci ha sempre creduto in questo film, che almeno o quantomeno si è sempre speso per questo film, e che dava anche credibilità, perché non era solo un titolo, ma era un titolo a cui era collegato un attore di grande rilievo, che ha vinto l'Oscar, anche prima, ma dopo poi ha vinto l'Oscar come migliore attore non protagonista. Da rilievo al progetto, se fanno girare le scatole pure a lui, è capito? È un po' difficile il fatto dei vampiri e della complessità del rendere un film che comunque deve avere delle nature horror, senza il sangue, rende il tutto estremamente problematico. Poi c'è questo discorso che l'MCU ha lasciato un sacco di fili non collegati, cioè di fili appesi, perché abbiamo una quantità enorme di personaggi che sono stati presentati nelle scene mid-credits o post-credits, e di cui non si è fatto niente. Io ricordo il povero Joe Snow, che dovrebbe essere là e fare il Cavaliere Nero con la sua spada ad ebbano, cosa che mi è venuta in mente proprio perché la voce di Marshall Ali era quella che si sentiva, la voce fuori campo di Blade, quindi Blade teoricamente è già entrato nell'MCU, si è pure fuori quadro, quindi lui non lo abbiamo visto, ma già è entrato nell'MCU perché era doppiato dal suo attore, ma non se ne è saputo più niente. E lo stesso vale per Ercole, vale per Star Fox, per tutta una serie di personaggi che abbiamo visto, non dico dove, se uno non ha visto i film, però abbiamo visto in giro, e poi sono rimasti appesi lì. E non sapremo neanche quando, perché non c'è un film, sai, presenti un personaggio legato agli Eterni, poi fai in cantiere un altro film degli Eterni e sai che lo vedrai lì, o ipotizzi lo vedrai lì. Qui c'è davvero tanta gente che è rimasta appesa nell'ultima fase dell'MCU, vedremo se, dove, quando verranno ripresi, non lo so. Allora, io penso che qualcosa, cioè se è vero che le riprese inizieranno il prossimo autunno, se è vero che comunque il progetto ha preso una piega, ha preso una buona strada diciamo, rispetto a tutti i rumor che abbiamo sentito negli ultimi tempi, se è vero che ci sono ancora tutti quanti, a cominciare appunto dal protagonista, poi passando per Mia Goz, di Roy Lindon, che dovrebbero essere anche loro nel cast, un annuncio finalmente, concreto, dovrebbe esserci il prossimo agosto, quando ci sarà il D23 della Disney, che se non ricordo male, è nella prima metà di agosto. Data strana poi, perché non l'avranno mai fatto, vi ricordi, in quel periodo, era sempre verso settembre, una cosa del genere. Quindi, a sto punto, se è vero che il film entrerà in produzione, mi aspetto una presentazione ufficiale, magari anche con Marshall Ali, che sale sul palco, presenta sto film, lo presentano con il cast, presenteranno anche Fantastic Four, immagino. No, no, stavo solo dicendo che sono almeno tre o quattro D23, che diciamo, dai, questa è la volta di Blade, ma sicuro diranno qualcosa. Ma stai, è impossibile che... eh, non lo so. Non lo sappiamo, non lo sappiamo, vedremo, cioè, sto progetto. Però sì, anch'io sono nel... finché non mi siedo proprio in sala e inizia proprio il film, con i titoli di testa, io non ci credo. Vabbè, vedremo. Altri rumor riguardanti l'MCU, e cambio quindi titolino, Spider-Man 4. Spider-Man 4, poi MCU, Marvel, Sony... si parla del possibile regista, si parla anche di riprese che dovrebbero iniziare a brevissimo ed è una notizia, questa poi che si ricollega ad un'altra triste notizia, triste per molti fan di una serie televisiva che è appunto Euphoria, dove recita Zendaya. Si è... non è una voce perché è stato confermato dalla stessa HBO, le riprese che Sidney Sweeney aveva detto sono imminenti, fra un po' vado sul set, iniziamo le riprese della stagione 3 di Euphoria, niente da fare, non si inizia presto con queste riprese, anzi, le riprese non inizieranno prima del 2025, molto probabilmente, quindi niente da fare per questa serie che c'è chi dice sia stata cancellata, HBO poi ha diffuso un comunicato per calmare gli animi dicendo no, non abbiamo cancellato niente, stiamo lavorando alla serie, non vi preoccupate, ci teniamo tantissimo, eccetera, eccetera, poi altri rumor, Jeff Snyder nella sua newsletter, era la sua newsletter, sì la newsletter, ha confermato, oddio non ha confermato, ha seguito questo rumor aggiungendone altri e dicendo che le riprese di Euphoria sì sono slittate perché un po' tutto il cast della serie ha ottenuto un grandissimo successo, a cominciare appunto da Sidney Sweeney, poi Hunter Schafer e Zendaya che recita ed è anche produttrice, ma proprio lei sarà impegnata a breve, se non ricordo male la prossima estate, con le riprese di Spider-Man 4 che sarà diretto, giravoce, ha lanciato questa bombetta Jeff Snyder da Justin Lin, ora Justin Lin se non lo conoscete è uno dei principali registri action presenti sulla piazza al momento, il suo nome è legato alla saga di Fast and Furious, che ha diretto molti capitoli, stava per dirigere l'ultimo, poi ha avuto degli scazzi, non si è capito bene cosa è successo con Vin Diesel che lo costringeva a giraggia, ce lo ricordiamo ancora, a fare delle dediche su Instagram, dei video selfie in cui lì sembrava un po' per ostaggio, sembrava quella scena di Aldo Giovanni e Giacomo aiuto scritto sulle mani, però vabbè. Quel video bellissimo in cui Vin Diesel l'aveva costretto lo tiene per il collo e gli fa, vieni Justin, vieni facciamo questo set. Ma quanto ci divertiamo su questo set, ma quanto ci stiamo divertendo su questo set, poi dopo due giorni la notizia che lui non era più regista ed era solo produttore. Ed era fuggito all'estero. Ed era fuggito all'estero cambiando nome, cambiando anche il numero di telefono per non farsi rintracciare da Vin Diesel. Comunque, come te lo vedi Justin Lin nell'MCU? Ma non lo so, il punto è che per tanti film di supereroi, Marvel e non solo, che abbiamo visto negli ultimi anni, alla fine l'impatto del regista non è mai stato particolarmente forte, anche quando c'erano dei registi che in un modo o nell'altro avevano uno stile, non dico necessariamente una cifra stilistica, ma ha uno stile molto riconoscibile, per la complessità che questi film hanno, spesso la loro impronta non si vedeva per niente. Abbiamo parlato di film in cui si notava, di film dell'MCU, in cui si notava l'impronta del regista per il secondo Doctor Strange, perché Remy ha fatto tutta una serie di autocitazioni infinite e bellissime, e per poco altro. Qui è un po' diverso perché ovviamente è il Sony Spider-Man Universe, quindi l'SSU, questa sì, se ne può più, però vedremo, non lo so, è anche vero che è molto difficile, pur essendo un film che segue la scia di tre film popolarissimi, di un terzo film che ha fatto numeri enormi al botteghino, ma proprio per questo quel film ha un po' rappresentato la chiusura del cerchio per la saga interpretata da Tom Holland, tant'è vero che è stata una lunga pellicola sulle origini spalmata, abbiamo scoperto alla fine in tre film. Contrariamente a quello che succedeva negli altri Spider-Man, qui alla fine vedevamo Spider-Man con il costume tradizionale dei fumetti, perché si completava il cerchio con il lutto che in generale è all'inizio dell'origine di Spider-Man, di qualsiasi Spider-Man, qui al posto e lo zio Ben sapete com'è andata. È un po' difficile rimettere in piedi tutto il discorso, anche perché c'era quel taglionetto che Far From Home mostrava alla fine con un taglionetto proprio al mondo dei comprimari di Peter Parker, per via della magaria che rimetteva a posto la realtà. Quindi è proprio difficile. Fai un film tutto action? La cosa che abbiamo detto più e più volte è sempre mancata in questi film di Spider-Man, del cicloso più recente, quindi Contro Holland, è una presenza massiccia di New York City, che è la comprimaria delle storie di Spider-Man e che è mancata letteralmente nei primi due film perché ambientati altrove e anche nel terzo si vedeva poco. Già se rimetti quelli, già sei a buon punto. Non è un caso che della saga di Amazing le cose che si ricordano di più sono l'inizio del secondo film con quella scena in soggettiva come il videogeco Mirror Sage e Peter Parker che svolazza tra i grattacieli o che del primo film tutti ricordino le parole finali, sono Spider-Man appeso al pennone. Poi, non so, è complesso, non basta semplicemente fare un film action e accontentare tutti proprio perché parli di una platea enorme che ha aspettative gigantesche per un film di questo tipo. È complicato. Esatto. Cito un commento che ci è arrivato, il titolo potrebbe essere Spider-Man Far From Furious, potrebbe essere anche questo. Furious From Home. Furious From Home. Vengo mangiato e furioso. Tu hai detto una cosa giusta, noi ci gasiamo molto spesso, poi a seconda delle nostre preferenze ovviamente. Io potrei gasarmi per il coinvolgimento di Justin Lin nell'MCU perché penso alle scene d'azione magari che potrebbe concepire. ma le concepisce veramente, perché poi questa è una cosa su cui si è discusso tanto, quanto conta il regista in una produzione Marvel, perché altre voci che erano giunte dietro le quinte erano proprio che le scene d'azione soprattutto sono già ribordate, non so quanto, il regista non fa niente. Quindi, vale la pena gasarsi o no? Se hai dei film in cui il 70-80% delle scene d'azione sono girate in green screen, è ovvio che il lavoro esula da quelle che sono semplicemente le volontà del regista. Non è come un film di arti marziali dove hai il coreografo dei combattimenti, che spesso è una persona diversa dal regista, perché ti deve pettinare le scene di marzate. bella figura, deve andare lì a renderle un po' più credibili, più divertenti. Però il regista dice, qui vi dovete menare e voglio che vi inquadrino così e voglio che tu fai questo. E poi comunque tu ti muovi per fare ammazzate, il concetto di base viene preservato, quindi il modo in cui lui ha pensato quella scena viene preservato. O comunque stanno lì, ne discutono, come discutono in continuazione con produttori e sceneggiatori per cambiare all'ultimo secondo qualsiasi cosa sul set. Qui è diverso, perché c'è una macchina produttiva talmente stratificata che il regista riesce a incidere molto poco. Non è un caso che abbiamo visto Fior di film dell'MCU che in omaggio involontario al primo film dell'MCU ad Iron Man sono stati girati in gran parte o in buona parte senza che ci fosse ancora un copione definitivo. Cioè iniziano a girare le scene, è una roba che, voglio dire, se non hai scritto quello che deve essere girato, è un po' difficile girarlo. Non quando però, come dicevi tu, le scene in azione sono già ribordate e quindi quella roba là è già pronta. Poi dopo ci metti i dialoghi, però intanto devi fare la sequenza in cui lui tira il cazzotto e si appende sotto al ponte di Verrazzano, eccetera, quello lo puoi già girare. Questo spiega perché nella gran parte dei casi iniziano a girare prima ancora ad avere effettivamente un copione definitivo. Nel caso di Iron Man non ce l'hanno praticamente mai avuto e lì la sera decidevano nella roulotte di Robert Downey Jr. cosa far dire ai personaggi, che è una cosa incredibile se pensiamo anche in macchina da soldi che ha sfornato il successo di quel film. Però è un film in cui si è improvvisato letteralmente tantissimo. Qua il caso è diverso, ma proprio perché quel tipo di sequenze d'azione hanno un'origine, una struttura e una complessità che è solo dal tipo di regista e si vede perché poi puoi avere alcuni elementi che li conducono al cinema di quel regista ma poi tutto il resto tende ad essere omologato, amalgamato. Se vedi Gli Eterni ti accorgi da alcune cose che è un film di Chloe Zhao ma per tutto il resto non è diverso da un film diretto da Sam Raimi o da un film diretto da chiunque ha i fratelli russo o chi so io, no? Sì, sì, no. È vera, è verissima questa cosa. Io per esempio ho scoperto proprio prima di questa live che Jake Skryer, se si pronuncia così, non lo so, che è il regista di Thunderbolts ha diretto un piccolo film indipendente del 2012 che io adoro, che è Robot and Frank che non so se hai visto. Mi sa che è disponibile con Frank Langella e la storia di quest'uomo affetto da Alzheimer ambientato in un futuro non troppo lontano in realtà vabbè, gli regalano questo robot con cui... come sorta di badante e lui riesce ad addestrare questo robot e insomma fanno delle cose non troppo legali però il tutto è molto divertente è molto divertente è molto carino come film però anche da questo punto di vista cioè che c'entra con... eppure vabbè che la Marvel pesca sempre nel cinema indipendente anche perché sì giustamente tu guardando anche il curriculum di Chloe Zhao non è che dici ah che bello questo film facciamole fare un film Marvel è un po' strano come ragiona la Marvel certe volte anche se uno ha fatto un film in quel genere lì ed era un film notevolissimo abbiamo tutti l'esempio più sbagliato per i risultati ovviamente se noi poi siamo bravi tutti ma Josh Trank dieci anni fa quanto c'aveva? trent'anni quando l'hanno messo a fare i Fantastici 4 veniva da Chronicle che comunque era stato acclamato come un film bello comunque un film che affrontava i supereroi in modo diverso da quelli che erano i film dell'epoca soprattutto e funzionava come film Chronicle non era secondo me un film perfetto però il suo lo faceva non era un film che dicevi che è schifo e poi il suo Fantastici 4 generò curiosità perché prendi un regista che ha fatto un film di supereroi con un approccio nuovo gli fai fare un film che già non è riuscito in un paio di incarnazioni precedenti ed è uscito Fantastic 4 di Josh Trank quindi a volte non basta manco se hanno fatto qualcosa di specifico in quel genere figurati figurati quando hanno fatto qualcosa di diverso in genere sono registi che hanno fatto film indipendenti ed è pur vero che tutti i mostri sacri spuntati negli anni 70 e 80 da qualche parte hanno cominciato e quindi magari venivano da un film indipendente pure loro ogni Tim Burton è nato da un film che non c'entrava niente con quello che ha fatto dopo però qui è diverso perché non sono film a sé stanti ma sono film che sono capitoli sono episodi di una saga infinita che ha già dei pezzi enormi visti e rivisti da centinaia di milioni di persone in tutto il pianeta quindi non è sé sì poi dipende quanto io penso che dipenda anche cioè molto poi come tu avevi iniziato col caso di Josh Trank dall'attitudine del regista perché non lo so da un lato vedo Josh Trank e dall'altro vedo James Gunn che se tu ti guardi il percorso professionale di James Gunn che è iniziato con la troma con l'indipendente più scorretto sulla faccia della terra e poi comunque è riuscito ad entrare in questa macchina cinematografica che non è semplice da gestire cioè grandi produzioni come quelle della Marvel cioè non sono semplici da gestire senza impazzire cioè stando alle regole e allo stesso tempo mettendoci del suo perché per esempio i film di James Gunn sono tra i pochi della Marvel in cui io dove vedi la mano dell'autore dove vedi la mano e ti fidi anche quando lui dice io ho fatto quello che voglio ma quando dice io ho fatto quello che voglio sì quando dice io ho fatto quello che voglio io ci credo che lui dice una cosa del genere però lui ha fatto quello che voleva con la consapevolezza di dover comunque stare all'interno di una diciamo così di doversi moderare in alcune cose però secondo me è verissima questa cosa secondo me c'è un fattore che la rende leggermente più semplice James Gunn sia bravo lo sappiamo altrimenti non sarebbe finito a dirigere alla baracca della concorrenza all'altra parte è pur vero che è stato proprio il fatto che lui sia stato bravo a moderare quel tipo di contenuti a portare il grandissimo successo dei guardiani della galassia che è quello che gli ha fatto fare poi il salto di qualità l'ha fatto conoscere davvero a chiunque però con l'umorismo è più facile far riconoscere il tuo tipo di umorismo la sua bravura è stata nello scalarlo perché un conto è fare le cose come ha fatto poi in The Suicide Squad no? in quel tipo di umorismo che contrassegnava all'inizio la sua carriera insieme ai fratelli eccetera e scalarlo per farne i guardiani della galassia però l'umorismo si riconosce se vedi un film del trio Zaz Zacher Abrams Zacher sai che è quello se non hai mai visto prima una palottola spuntata l'ario più pazzo del mondo ti rendi subito conto che dietro c'è la stessa mano perché il tipo di umorismo demenziale è quello è fantastico è quello è così se guardi un film con i supereroi di James Gunn e ne guardi un altro anche se ha un tono completamente diverso più sboccato come The Suicide Squad ti accorgi che dietro c'è la stessa persona quando non hai qualcosa di così caratterizzante come lo stile umoristico è molto più difficile Raimi perché ci è riuscito perché ci ha messo dentro le sequenze dei suoi film horror pur non facendo un film horror vero e proprio e chi vede il secondo Doctor Strange si rende subito e conosce Sam Raimi si rende subito conto che dietro è lo stesso regista della casa dell'armata delle tenebre eccetera di Spider-Man di Spider-Man 2 mentre lo lasciamo da parte perché si autocita e ti fa vedere le scene che sono citazioni del suo curriculum quindi ci sta però non dico che sia una brutta carta da pelare perché in realtà per un regista anche per lì è un'occasione enorme perché se ti fa bene hai svoltato non che lui ne abbia bisogno però per dire hai messo un'altra pagina importante nel tuo curriculum però è complicato soprattutto Gunn ha svoltato Gunn ha svoltato alla grandissima e ha letteralmente la possibilità poi vabbè i suoi personaggi suoi però ha il diritto di vita e morte sui personaggi di un universo cinematografico nuovo che quindi può plasmare come vuole o comunque può proporre così come vuole con i primi supereroi della storia del pianeta quindi non è che sta parlando sai di un universo minore dice ha dei personaggi cazzo con Batman Superman e tutto il resto e può decidere lui no voglio ripescare questo personaggio dall'incarnazione precedente lo voglio completamente diverso che è una roba per la quale credo ogni creativo calato nell'immaginario pop come James Gunn farebbe farebbe faville Justin Lin se sarà davvero lui a dirigerlo avrà questa possibilità magari chi ce lo dice magari uno Spider-Man tutto action visto che i drammi familiari ormai ce li siamo giocati i drammi d'amore la componente la puoi mettere però insomma il grosso l'abbiamo fatto magari uno Spider-Man tutto action con un Tom Holland ovviamente leggermente più adulto può funzionare il grande vantaggio che ha la Sony il grandissimo vantaggio e noi lo diciamo da anni è stato l'aver scelto un attore non solo giovane perché anche con Garfield e anche con Toby McGuire avevano scelto degli attori giovani quando hanno esaurito come Spider-Man ma anche che dimostra meno anni di quelli che ha e quindi questo ti permette di continuare a utilizzarlo se riescono a tenerlo sotto contratto e lui ha voglia di farlo per tanto tempo perché lui è già Spider-Man da un fiatto di anni il tempo passa lui è già Spider-Man da un sacco di anni però come diceva Corinna in Boris lui ha gli anni che ha e basta è indefinibile diciamo una cosa del genere prima volevo dire per Boris che Blade è il Machiavelli è un po' il Machiavelli dell'MCU esatto e quindi se non vai a parlare con Tarzanetto poi non sai esattamente come devi fare però qui è diverso esatto leggo un attimo un commento che mi riguarda che quando Filippo parla di Garne e la Troma scende una lacrima ripensando alle telefonate reperite sul dark web il podcast la telefonata la buonanima del podcast però gli episodi sono sempre lì le puntate potete recuperarli ascoltate tutte le volte che voleva va bene siamo addirittura ad arrivo a questo punto cambio proprio una cosa neanche tu lo sai Ale non ne abbiamo ancora parlato però puoi intuire da quello che ho scritto sto raccogliendo un po' di informazioni su Megalopolis l'ambizioso nuovo film diretto da Francis Ford Coppola un'opera che Coppola inseguiva da tantissimo tempo che si è prodotta lui stesso oltretutto vendendo parte dei suoi vigneti cioè per raccimolare i soldi perché dico il destino incerto che poi è il titolo appunto dell'articolo che sto scrivendo su Screen Week che a breve troverete su Screen Week perché oltreoceano ci sono stati i primi test screening di Megalopolis test screening anche finalizzati a trovare non un finanziatore però un distributore per questa pellicola e stanno arrivando notizie belle e brutte allo stesso tempo belle dal punto di vista puramente cinefilo mettiamolo così davanti del cinema perché pare che Francis Ford Coppola abbia realizzato quest'opera cinematografica alla massima potenza vi dico soltanto alcune cose che sto raccogliendo allora un film che ha lasciato il pubblico disorientato un'opera che è stata definita folle sperimentale una miscela tra metropoli scaligola si dice anche che durante questo test screening il film abbia preso vita e in mezzo al pubblico ci fosse un attore che ad un certo punto ha iniziato a parlare con lo schermo con Adam Driver che è nel cast che questa è una cosa come te lo piazzo del genere che effettivamente quello che dicono è che ha zero prospettive commerciali ora vi leggo anche quello che ha riportato per esempio World of Real un film che va oltre lo schermo coinvolge gli spettatori attraverso la narrativa avvincente elementi visivi suggestivi cinema sperimentale degli anni 60 il cinema indipendente con cui è cresciuto Coppola un'opera molto personale pare che Andy Garcia che era presente tra il pubblico tra il pubblico durante questo test screening c'erano anche delle star alla fine proiezione si è alzato ha indicato Coppola ha detto è un bel direttore è un bel direttore è un grande è un bel director ho visto che esatto esatto è un bel director quest'uomo è la ragione per cui tutti noi ci dedichiamo al cinema ha detto indicando Coppola però il problema fondamentale che è emerso da questo test screening è sto film è impossibile da vendere cioè si dice che sarà difficilissimo che grandi major come Warner Bros e Universal lo prendano proprio perché è difficile molto spesso il pubblico di cinefili non ti fa battere cassa questo è praticamente il sunto dell'articolo che sto scrivendo e delle informazioni che si sono raccolte non lo so Ale se tutto questo riesce anche a suscitare una riflessione perché interessante ho visto Hideo Kojima il creatore della saga di Metal Gear il famoso game designer che su Instagram posta in genere locandine di film cose che sta guardando copertine di Blu-ray con dei delle micro recensori tipo di due parole o niente solo la foto perché sto guardando questa cosa ho postato Megalopolis ieri o l'altro ieri insomma è uscito su Instagram nelle ultime ore sicuramente è un progetto estremamente ambizioso la storia ricordiamolo parla di un architetto visionario che vuole ricostruire completamente New York City che è stata devastata mi pare questa è la sinossi che girava a Coppola che gli vuoi dire è vero che tantissimi fanno questo lavoro perché hanno visto i suoi capolavori e penso anche che per quanto possa essere difficile trovare un produttore trovare un finanziatore eccetera a uno che è passato che ha passato tutte le cose che ha passato lui sul set di Apocalypse Now è acqua fresca cioè vabbè che adesso è anziano però non gliene frega anche vero che lui non fa un film da quel con Val Kilmer come si intitolava Twix Twix una cosa del genere Twix non me lo ricordo e parliamo di una quindicina d'anni fa 13-14 anni fa quindi era 2011 quel film ci troviamo 13 anni fa pensavo qualcosa in più si vede che lui vuole portarlo in sala Twix vuole portarlo in sala perché altrimenti mi sembra impossibile che vuoi pure per prestigio anche se i borsoni non sono più allentati come fino a qualche anno fa Amazon MGM Netflix noi abbiamo detto Francis 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 Ford ti diamo la libertà che abbiamo dato a Scorsese che ha potuto fare Killers of the Flower Moon fregandosene del fatto che in sala un film di tre ore come quello ha raccolto poco perché non era quello l'intento sono operazioni di prestigio ho visto il film costato 220 milioni di dollari finora non è una somma stratosferica se ti puoi portare in casa il primo film di Francis Ford Coppola da degli ultimi 13-14 anni comunque sia che sia bello che sia folle ma solo una follia cioè comunque è Francis Ford Coppola voglio dire io lo andrei a vedere subito cioè se uscisse anche di fronte a recensioni disastrose avrei comunque una voglia matta di vederlo sia perché mi interessa il tema sia perché è un film suo io credo di aver visto tutti i suoi film non ho mai visto Peggy Sue si è sposata perché ricordo che una volta che ho detto li ho visti tutti ho controllato l'elenco non avevo mai visto quello mi manca quello però che gli vai a dire cioè parliamo davvero non di un vecchio leone di Hollywood di un mostro sacro parliamo proprio di Hollywood cioè di una colonna portante della storia del cinema mondiale non soltanto non soltanto statunitense sarà molto interessante vedere chi chi lo prenderà cioè ripeto questi questi report danno quasi per scontato che le grandi major lo lo lasceranno per non vogliono averci a che fare qua si cita per esempio oltreoceano la Neon la Neon che effettivamente ultimamente si sta prendendo dei titoli interessanti magari interessanti dal punto di vista cinefilo ma non dal punto di vista diciamo di vendibilità di botteghino del film anche perché Filippo c'è il discorso che un film del genere se te lo porti in casa lo devi promuovere adeguatamente no? perché non è che non gli dai promozione e poi se va male comunque rischia di costarti il doppio il triplo di quello che hai speso no? per la promozione e tutto il resto è complesso io sono molto curioso peraltro dimenticavo di vedere Giancarlo Esposito se farà Giancarlo Esposito anche in questo film perché ricordiamo che c'è pure lui mi pare almeno vorrei dire una cazzata amici a casa mi pare che ci fia è un cast ha un cast in clienti c'è John Boyle a Dan Driver sì però mi pare ci fosse anche lui sì c'è lui nero è che è Natalie Emanuel John Boyle Lawrence Fishburne da quello che ho capito Lawrence Fishburne non recita ma è il narratore però c'è Shia Leboeuf Jason Schwarzman cioè un grande cast grandissimo cast c'è anche il fra fra Shia Leboeuf ricordiamo sì ma Giancarlo Esposito dei panni di Giancarlo Esposito che sarà uguale a un un generalissimo della dell'impero è uguale a un narcotrafficante che però lavorava nel fast food proprietario di un fast food è anche uguale a quello della vote di The Boys a scanzo di quivioci mi piace tantissimo Giancarlo Esposito sì sì no infatti la sua parte è essere Giancarlo Esposito cioè fare la faccia da Giancarlo Esposito ultimamente la sua parte stare fermo immobile parlare in maniera molto lenta e scandita non sbattere mai le palpebre e far no il cattivo carismatico inquietante alla Giancarlo Esposito sì esatto vedremo vedremo un po' va bene se non hai altro da dire io chiuderei qua no chiuderei qua va benissimo allora alcuni annunci allora settimana prossima non ci sarà la live perché non ci saremo noi cioè ci saremo fisicamente in altri posti non ci saremo qui su Instagram potete trovarci troverete me e anche altri di Screen Week immagino al Romics sabato se per caso vi trovate lì veniteci a salutare ci fa sempre piacere niente quindi poi ci vedremo il venerdì successivo o se non venerdì comunque poi vedremo insomma la settimana successiva quindi dopo il weekend del 6 vi ricordo di seguire Screen Week come sempre già ci seguite su Instagram e siamo molto contenti però ci dovete seguire ovunque ci dovete seguire su TikTok su Facebook su YouTube dovete leggere il blog dovete fare tutto quanto come dico sempre Screen Week vi perseguita camminate per strada e arriva Screen Week e questa volta è vero perché se avete visto il nostro feed su Instagram recentemente avete visto che quello che dicevo è vero perché siamo venuti per strada a farvi domande c'è Andrea che a un certo punto tu cammini in questo caso per Roma però Andrea ti ferma e ti fa domande e poi finisci su Screen Week quindi bisogna sempre stare molto attenti è venerdì inizia il weekend weekend lungo perché è il weekend di Pasqua quindi c'è anche Pasquetta il mio invito è come sempre quello di uscire divertitevi è Pasquetta molto probabilmente pioverà speriamo di no dite incrociate però se piove in ogni caso voi potete sballarvi ma non troppo perché il vero sballo è dire no dite sempre no ma dite sì alla Pasquetta va bene grazie Ale ci vediamo alla prossima live buon weekend alla prossima ciao ciao